Un ciclista questa mattina in sella alla sua bicicletta è caduto in una buca in viale della Vittoria a Pesaro poco prima del parcheggio Il Curvone, forando il copertone della ruota anteriore. Al momento dell'urto il 71enne ha sbattuto la testa sul marciapiede, lato destro della carreggiata, procurandosi una ferita alla fronte e lesioni sugli arti superiori. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, dove hanno trasportato il 71enne al San Salvatore per le medicazioni e controlli. Il gruppo di ciclisti, partito da Fano, erano diretti a Riccione. La buca invece è stata tempestivamente ricoperta.